Ciao ragazzi, si continua ad andare in bicicletta al lavoro perché ce la fa e devo anche correre perché sono in ritardo Ciao ragazzi Scusate questa delle cronaca ma per strada sono pazzi camminano senza vedere dove vanno io sono di fretta, più che altro sono giusto perché oggi è domenica e gli autobus sono di meno per strada qua il collega che cerca di lavorare, fa la notte vi salutiamo dai fate attenzione con i biciclanti in strada e buona serata a tutti, ciao dopo il primo giro siamo fermi qua appena 80 minuti di ritardo va bene così ciao ragazzi, la mia giornata di lavoro è terminata l'autobus va in amore diciamo che è andata bene anche oggi dai, con un'ora di ritardo mi hanno consegnato l'autobus al cambio e per il resto poi ci ho pensato io comunque la vettura è favolosa la vettura è favolosa l'unica pecca che hanno questi autobus qua è che hanno solo due porte poi per il resto favolose favolose se ci vogliono far lavorare con queste vetture qua si arriva tranquillamente alla pensione forse comunque adesso si va in bici a casa quest'altri 10 minuti di aerobica e poi siamo di riposo ragazzi, buon lavoro, buonanotte ciao, a presto ragazzi come vi dicevo sono una favola questi autobus perché sono gestiti a parte tutto elettronicamente sono Mercedes ma è tutto elettrico il posto guida è molto comodo l'unica pecca rimangono sempre le due porte in questo momento è anche arrivata una comunicazione di servizio la giornata ancora deve finire agli amici non tanto ai colleghi perché i colleghi li conoscono già questi autobus qua due porte questo è il posto guida ammortizzato due pistole si lavora bene dai con queste vetture qua facciamo un giro panoramico vi ricordo due porte buono con questo vi saluto alla prossima ragazzi ecco pieno è che poi passa babbo paga babbo scusi ma cosa sta facendo là sto rifornendo grazie buono dai buono alla prima buono alla prima ciao ragazzi buonanotte buonaioli allora adesso allora adesso facciamo l'ultima pedalata della serata e si va a casa allora si ritorna a casa in bici dai fin qui finché il tempo permette e ce la fa si va un po' in bici economia soprattutto salute la cosa più importante buonanotte buono che è buono ic è Grazie.